E' polemica anche quest'anno a Chieti per la mancata organizzazione di eventi in occasione della Notte di San Silvestro. Nel capoluogo tiatino anche quest'anno, a parte le luminarie delle luci d'artista, non ci saranno né spettacoli né altre iniziative. Commercianti e partiti d'opposizione criticano il Comune che, seppure in una situazione di predissesto, poteva comunque dare vita a manifestazioni a basso costo con il convolgimento di associazioni e sponsor privati. Come evidenziano i consiglieri comunali del Partito Democratico Alessandro Marzoli e del Movimento 5 Stelle Ottavio Argenio. Non è possibile che città come Francavilla al Mare, città tipicamente estive, abbiano grandi iniziative per Natale e per Capodanno e Chieti, che soffre tantissimo per mancanza di economie e lavoro, non sfrutti la sua bellezza per poter dare ai cittadini e ai negozianti le opportunità che meritano. Bastava un Capodanno popolare senza spendere grandi soldi ma coinvolgendo le energie della città e dando la possibilità anche a quei tanti studenti che tornano da fuori, a chi lavora fuori regione, di vivere la città in un momento particolare dell'anno. Noi riteniamo che a questo punto sia necessario, fin quando ci sarà questa giunta, data l'incapacità che ha dimostrato nel gestire questo tipo di situazioni, sia il caso di sedersi ad un tavolo insieme ai commercianti, noi diamo la nostra disponibilità per questo tipo di attività, per sopravvivere fin tanto che ci sarà questa giunta e iniziare a programmare per il futuro, per quella che sarà la prossima amministrazione della città di Chieti. Il sindaco Umberto Di Primio replica così alle critiche. A Chieti non si è mai fatto il Capodanno in piazza, si è fatto una sola volta ed è andato abbastanza male. Quest'anno avremmo voluto farlo ma spendere dei soldi, quando sappiamo che nelle città vicine, iniziando da Pescara, ci sono eventi che attrarranno tantissime persone, beh insomma ci è sembrato per davvero buttare i soldi dalla finestra. C'è indubbiamente in città una parte di commercianti che ormai lavora in modo assolutamente propositivo, ce n'è un'altra che continua a lamentarsi. Io prevedisco quella propositiva perché sta dando grandissimi risultati. Basta vedere le iniziative che stiamo facendo su Chieti Scalo ed alcune che stiamo facendo nella parte alta della città. L'auspicio è che il nuovo anno porti uno spirito di collaborazione molto più forte, dia forza alle idee buone e non invece alimenti soltanto le polemiche che veramente sono sterili e dannose per la nostra città.